La Feder Consumatori Nebrodi sostiene l'iniziativa dei sindaci dei Paesi del Comprensorio alla luce dell'ennesima proposta di piano sanitario della rete ospedaliera che prospetta il ridimensionamento di reparti e strutture della rete ospedaliera dei Nebrodi già fortemente penalizzati dai recenti tagli. Inutile dire che gli ospedali del Comprensorio dei Nebrodi, Patti, Sant'Agata Militello e Mistretta servono un'utenza di circa 100.000 abitanti in un territorio con criticità particolarissime che presenta carenze strutturali e infrastrutturali e con un diffuso abbassamento del reddito medio della popolazione dei comuni dell'entroterra. Le vie di comunicazione sono inadeguate, rallentano i soccorsi e si assiste all'inadeguatezza dei presidi sanitari rispetto alle patologie più diffuse dalla popolazione. Ecco perché Feder Consumatori chiede di aprire un tavolo di confronto perché gli ospedali della zona dei Nebrodi siano strutturati e diversificati nelle prestazioni, si azzerino le liste d'attesa e si tenga conto del ruolo fondamentale dei medici di base e della medicina territoriale. Le scelte non possono dipendere solo da fattori economici ma dalle necessità dei territori, ha spiegato Teodoro Lamonica di Feder Consumatori Nebrodi. Ci vogliono i giusti investimenti, personale e professionalizzato, apparecchiature moderne e funzionanti e strutture adeguate per riorganizzare la sanità pubblica territoriale e dare rassicurazioni ai cittadini.